Ciao a tutti, oggi parliamo del Merlocorus, un vitigno resistente a bacca nera, caratterizzato da buona vigoria, buona fertilità delle gemmie basali e grappolo particolarmente spargolo. Della tecnica di coltivazione di questo vitigno ne ho già parlato in altri video, oggi ci occupiamo della sua degustazione, in particolar modo della degustazione di una microvinificazione. La colorazione è un rosso intenso, un rosso rubino con riflessi violacei, il vino si presenta intenso anche sotto il profilo olfattivo. Dal punto di vista gustativo denota un buon corpo, una buona struttura, che secondo me lo rende anche adatto ad essere invecchiato. E presenta un quadro aromatico che richiama i sentori di frutti rossi, frutti rossi maturi. Ritengo che sia una microvinificazione correttamente eseguita e che valga la pena assaggiare questo vino. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!